Ma detto questo, signori miei, prima di tutto a tutti voi un carissimo e bellissimo ragazzi miei Buonasera, buona, buona, buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a tutti Allora, come funzionerà questo contenuto? Passerò in rassegna tutte le carte che Scryfall ci mette davanti Se non conoscete Scryfall, conosciate Scryfall E sono state ordinate le carte di Duskmorne per ordine di prezzo Vi dirò come e se o se non hanno performato nel nostro Early Access Quindi vi darò la mia personalissima opinione, che non vale niente, però diciamo così sono le parole di chi ha testato questa cosa sulla propria pelle E poi andiamo a fare il sunto e la conta di quante rare, rare mitiche, comuni e non comuni ci costerà questa bellissima nuova espansione Che piccola appostilla, intanto grazie mille Wizard per averci dato la possibilità di giocare l'Early Access Quindi un grazie di cuore a Wizard per la sua generosità Un grazie a tutti voi che l'avete visto Un grazie e un buon divertimento a tutti quelli che spero si siano divertiti con i nostri contenuti Ora, luci, grazie Benissimo Allora, 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 allora Mitug Massa Core 2 In giocato In standard, ragazzi, come si pensava Non si è minimamente visto Non so neanche se è davvero una carta da formati Eternal Non lo so Io ero molto dubbioso su questa carta qui E infatti in standard Non si è vista Costa tanto in cartaceo? Sì Vedrà gioco in qualche formato? Ma sicuramente il prezzo Se non è solo per commander è tanta tanta roba Quindi sicuramente la vedremo giocata da qualche parte Ma non in standard Quindi se volete giocare standard Non preoccupatevi Attualmente questa non è nelle nostre preoccupazioni Poi Passiamo subito all'occhietto Allora Allora, allora, allora Dobbiamo parlare tanto di quest'occhio Tanto, tanto, tanto Allora, io questo l'ho avuto contro un paio di volte E vi dirò Vi dirò È una carta forte Indubbiamente è una carta forte Come già vi dissi Può essere citata Nei primi turni Tramite reanimata O Dreddata La chiameremo così O dreddata Allora Per quello che ho visto nell'early access È una carta molto forte Ma non è imbattibile Nel senso che Ci abbiamo giocato contro Sei, sette Forse otto volte Sempre forte Però Problematica è stata solamente Una volta In concreto Cioè quando Me l'hanno fatta di secondo Lì È stato un problema E ho perso la partita Perché effettivamente L'avversario ha avuto Una combinazione di carte Nella prima mano Che gli hanno permesso Di scartarla Quindi farla andare nel cimitero E rianimarla subito Turno due È tanta roba Cioè Quando la fai di turno due Questa è veramente forte Veramente Veramente forte Detto questo È la carta più forte Di questo set? No Perché ce n'è un'altra Che è più forte di questa Però è sicuramente Un'ottima carta di magic È un'ottima mitica Dobbiamo ricordarci Che è mitica E che comunque Ha dei piccolissimi drawback Quali sono questi Piccolissimi drawback? Prima di tutto Non puoi castarla Normalmente nei primi turni E in standard Best of one Questa cosa È rilevante Ragazzi Perché se non puoi castarla Liberamente nei primi turni Tendenzialmente potresti fare Un 5-5 Che non arriva Abbastanza in tempo Per bloccare Ok? Secondo La sua dreaddata Funziona All'inizio del turno Del nostro avversario Questo cosa vuol dire? Vuol dire Che l'avversario In realtà Può fare una scelta Molto precisa Che è quella Di rimuoverla Pre-pescata Perché rimuoverla Pre-pescata? Perché Lei triggererà Lo stesso Ovviamente Perché se siamo Allo stop Ormai siamo All'unkeep Però il fatto è che Non è una carta Subito Aggressiva E rilevante Sulla board Dipende tanto Se siamo on the play On the draw Perché se siamo On the draw È insomma Aver fatto Un 2-carte Per cittare questa E poi perderla Subito all'inizio Del turno di Oppo È vero che ci restituisce Un 2-2 Che non è esattamente Lei Diciamo così Però se è un'altra Lei sicuramente È molto forte Se è un'altra Lei sicuramente È molto forte Però vi assicuro Grazie The Saint Grazie di cuore Grazie mille Per il terzo mese Grazie mille Davvero Però vi dico È forte Non la paragonerei Mai a Sheoldred Come power level Secondo me Sheoldred è ancora Un po' più su Molto forte Molto molto forte Grazie anche al Follow di Wethief Molto forte Però ci si può giocare On the play Secondo me è più forte Che On the draw Questa sicuramente Detto questo Costruire un mazzo Specifico Per questa carta Alla Monastery Mentor Deck Ci sta Ma dei Piccoli problemini In questo formato Perché Ripeto Se lo fai di secondo Magari anche di terzo On the play È una carta molto molto forte Molto forte Pastidiosa A dismisura Gian Inizierà a farla Di quarto Di quinto Quando iniziano a girare Le sunfall Le vrate Eccetera eccetera Non è mai esattamente Una safe Carta Perché Voi dovete considerare Anche questa cosa qua Quando tu la giro di terzo E poi Riesci anche a dreddare Il turno dopo Un pezzo Se poi ti arriva Una vratta nei denti Tu non sai Quante risorse hai perso Potenzialmente Perché se per caso Ne hai messo un altro Di lui sotto Dreddato E non hai fatto in tempo A castarlo È un casino Tu hai Praticamente perso Tre barra Quattro carte Per uno È una carta Forte 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 Secondo me Sicuramente La vedremo giocata In standard Per come È andata A questo early access Però ve lo dico Non è la più forte Del set Sicuramente Vale i suoi soldi Io non so Se arriverà A costare di più In early access È stata carina Bella Però ci si può Giocare tanto Attorno I control Bene o male La possono gestire In uno O più modi Certo Poi se c'è Se la si riesce A rifare tante volte Dal cimitero Tante volte È fastidiosa Però non è sicuramente Una carta rotta Del tipo Incredibile Devastante Carta forte Carta molto forte Ma Si ferma lì Non è sicuramente rotta Comunque segno Che sono le prime Quattro mitiche Che sicuramente Ci partiranno Se giochiamo Duskmor In standard Che è questa Sicuramente È un 4x Chissà perché Sotto di lei C'è subito Questa Ok Allora Io ve lo dico Subito Questa carta qua In early access È stata Assente Assente In giustificata Vera Screaming Nemesis Come pensavo Come pensavo È una carta Che non serve Monored Non in questo Standard Se gli serve Gli serve In best of 3 In best of 1 È completamente Superflua Completamente Superflua O quantomeno È stata Completamente Superflua In questo Early access I monored Non hanno Bisogno di lei Non hanno Assolutamente Bisogno di lei Potrebbero Aver bisogno Di lei Se mazzi Come Con l'occhio Di prima Diventano Tanto presenti E reggono I monorossi Perché La signorina Se blocca Il 5 Ah no Non può Non può Neanche bloccarle Il 5 5 5 5 Vola No Allora La vedo Completamente Superflua Secondo me È completamente Superflua Questa ragazzi Può essere Che veda Gioco in qualche Side Ma attualmente Ve lo dico Non mi ha Fatto una Grandissima Buona impressione In early access Quindi non la Conterò Nelle carte È una carta Che ovviamente In altri formati Potrebbe servire Contro angeli Così Però Non lo so In early access Non l'ha giocata Letteralmente Nessuno Di quelli che abbiamo Trovato noi Noi non l'abbiamo Giocata E monored Ha vinto In modi Molto più safe Valgavot Valgavot Imbarazzante Il termine Che darei A questa carta Inutile Superflua Esiste Atraxa Esiste Tali Rianimarla Non ha nessun Senso logico Nessuno Ragazzi Reanimatore È un mazzo Vero Ma Valgavot È una creatura Falsa Quindi Boh Questa è stata triste 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 In early access Penso che sia Molto ingiocabile In costruito Finché esista Atraxa È ingiocabile Quindi No Decisamente No Roll Crusher Ride Non si è vista Mai Quindi Anche questa Anche questa Carta Più che Superflua Mitica Aspetta che riduco Un po' Se no non la vedete Giusta Tutte le volte Devo spostarla Anche questa Mitica Abbastanza Inutile In costruito Non si è vista Mai Delirio Di per sé Non è che abbia Molto Niente Non riesco a Inquadrarla Come vorrei Delirio Non è che abbia Performato Moltissimo Sinceramente In tutto L'early access Inutile Quindi per fortuna Sono altre quattro miti Che risparmiate Ok È il momento È il momento È il momento Parliamo di Kaito E parliamone Parliamone tranquilli Perché Il mio cuore Si è spezzato Allora L'ho giocata E me l'hanno Giocata contro Non c'è stata Una Singola Situazione In cui Kaito Sia stato rilevante Vi dico Che ha fatto Letteralmente Schifo In early access Mai Mai Rilevante In nessuna occasione Per tre motivi Il primo Il meta È più veloce di lui Esattamente il problema Che avevamo detto Nel nostro video È tanto più veloce Di lui il meta Quando puoi fare questo Potenzialmente Sei morto Da mano rosso Quindi Boh Secondo motivo Non hai mai Il drop a due Che ti vuoi Sningiare con questo A meno che Tu stia già vincendo Cioè Tendenzialmente Tu hai già fatto Un vantaggio board Quando puoi fare lui Se fai Kaito È un plus Quindi anche questo Delusione Totale Delusione Totale Mi aspettavo Forse una delle carte Più forti del set In early access In best of one Ha fatto letteralmente Schifo ragazzi Ma tanto schifo Non abbiamo mai avuto La possibilità Di farlo in curva E quando La fai in curva Se sei on the draw Muore Non so Spero che In costruito Post early access Questa cosa cambi Però Per come abbiamo fatto Noi l'early access Veramente è stato Insufficiente Insufficiente Ma tanto 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 insufficiente Cioè la sua sningiata Non è rilevante Perché tu ti fai Svantaggio board In uno standard In uno standard In cui se ti fai Svantaggio board E sei avanti Vuol dire che sei già avanti Se ti fai svantaggio board E non sei avanti Il turno dopo È inutile Questa carta qua Quindi Delusione totale Delusione totale Spero veramente Che in costruito Cambino le cose Perché questa Sembrava avere Un enorme potenziale Ma in early access Ha fatto letteralmente Zero Ho fatto una win Sola con questa carta qua Ma stavamo già vincendo Anche senza Kaito E Il mazzo di Oppo Non era un gran che Non lo so Questa ha deluso Veramente Veramente Tanto in EA Peccato ma Perché io ci credevo In Kaito Purtroppo Per quello che ho visto In EA No Questo è Walking closet Che è quella che fa Le terre dal cimitero Mai vista giocata Mai vista giocata E Non c'è motivo Di giocare questa Perché ci sono Delle stanze più forti Il verde Non passa per le room Per quello che abbiamo visto In early access Sarà sicuramente Forte in altri formati Poter rifare Le terre dal cimitero Ma attualmente In standard Dove tra l'altro È arrivata Leila in nera No Io non l'ho Proprio mai Vista giocata Questa Questa sì Questa è forte Gran sorpresa Dell'early access È una delle carte Più forti Questa Gran Gran Carta Questa Questa Aggiungiamo Altre quattro Mitiche Al costo Di dusk Morn Perché questa È forte Vera Questa È forte Vera Ragazzi Miei Questa Può andare In vari Mazzi In tanti Mazzi Diversi E si sa Che quando Una carta Va in mazzi Diversi Vuol dire Che ha Multi potenziale E che Molto Molto Divertente Nick E che È una carta Con i controcazzi Quindi Funeral room È forte Perché la si può giocare In sacrifice Rakdos In enchantment Orzhov In reanimator E in mono nero Quattro mazzi Che potrebbero usare Questa carta E in tutti e quattro È rimasta Molto molto forte Perché il suo effetto Blood artist C'è È tanta roba Triggera ieri Rianima con l'ulti E l'abbiamo portata All'ulti Due volte Non pensavo Ma invece Quella rianimata lì Gratis Perché A un certo punto Oppo Non riesce quasi a gestirtela Cioè l'oppo Se tu l'accompagni Con una board Lui deve gestire la board Se ne Quasi dimentica Di questa Arrivi a otto mana Rianimi tutto È fortissima Ma veramente Tanto forte Questa carta qua E poi è stata In multimazzo Questa è veramente forte Questa è andata Veramente Veramente Tanto bene In early access Quindi Mitica vera Altre 4 mitiche Belle sugose Ovunque ci sia Un tocco di nero Secondo me Questa ci va Se abbiamo tante creature Forte tanto E poi è win condition Sinergizza con Forgia Sinergizza con Eri Sinergizza con Reanim Tutto Fa tutto Questa carta qui Bella 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 Vi ricordo che Forgia Non sono menate Col pezzo di Forgia Ma poi fate un danno Una vita Quindi Tanta tanta roba In un meta in cui Forgia È già forte L'impending nero Bomba Bomba Anche questa carta L'abbiamo giocata ovunque Ovunque In enchantment In reanimator In tutto In delirio In tutto In tutto In tutto Bomba Terra Aria Queste sono 4 fisse Ragazzi Anche qui altre 4 Questa è fortissima Questa è veramente Tanto Tanto Forte Tanto Tanto Forte Questa carta qua Ragazzi Fa tutto Fa tutto La potete cittare con Zur Entra La potete rianimare Comunque il suo effetto A 2 è forte Rimane lì E mette un clock All'avversario Perché poi ci sarà Un 5-5 Che lo mena Ti set up a cimitero Ti set up a delirio Figa Ti trigger a Eri Forte Forte Fortissima È stata Forse una delle Forse la carta Contro cui abbiamo giocato Di più Anche in early access O comunque che abbiamo visto Di più Nel nostro early access Forse sì 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 Tra tutti i reanimini E deliris Secondo me sì Anche noi L'abbiamo giocata Più volte Sì sì Questa probabilmente È stata la carta Più presente in early access Forte Veramente tanto In standard Forte Piccola delusione Per questa Che comunque È stata giocata Perché dico Piccola delusione Perché mi aspettavo Mi aspettavo Eh lo so William Grazie Grazie mille Piccola delusione Perché me l'aspettavo Più presente Non perché Non è stata forte Ma perché Me l'aspettavo Più presente E invece di domain Abbiamo trovato Uno E ovviamente La giocava Cosa vi devo dire È fortissima Anche questa Rampa La puoi cittare Con Zur Se giochi il verde Strano Che tu stai giocando Zur verde Ma ok Però ti rampa Da solo Ti fixa La ley line Anche questa È stata veramente Forte Quando ce l'hanno Fatta contro Poco presente Ma queste ragazzi Sono altre quattro Orale Quattro mitiche Questa è Tanto Ti so sbagliato Tasto Queste ha Pardons Perché non torna Più la vista Sbagliato Tasto in pieno Fatto un disastro Non so Che è successo Ecco ci siamo tornati Ok Questa è stata Tanto tanto forte E queste sono Altre quattro ragazzi Da Da mettere Senza dubbio Perché Sono forti Sono tutte forti Queste carte qua E Finché domain rimane O comunque si passa Per un mazzo Che vuole fare Delle terre extra Questa sì Tanta tanto Tanta tanto Tanto forte Questa È stata davvero buona In early access Vabbè Non sto qui neanche A dirvelo ragazzi Tivar Sono altre quattro mitiche Forte A dismisura Tivar Tivar è stato Proprio forte A dismisura Carta da combo Con Kona Carta Da aggro Mono G Fuori di testa Fuori di testa Forte tanto Perché Quando entra Fai fatica A rimuoverlo Se non hai un esilio Anche questa È stata Una bella Bella bomba Ce l'hanno fatta Contro L'abbiamo giocata L'unica sfiga che ha È che in campo Da sola Non fa nulla Ma ti basta Un 1-1 di merda Per tenere questo qui E poi fa Un effetto close Un effetto win condition Con il secondo effetto Che ha Bomba Va veramente Tanto forte Questa Questa qui Forse anche in Pioneer Elfi La proviamo Perché vi ricordo Che in Pioneer Non c'è All'osauro Questa è forte 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 La puoi giocare Ripeto In aggro In combo In selesnia Me l'hanno giocata Contro Selesnia Mount Tra l'altro Top Top Qui Proprio Qui il livello È alto Top 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 Delusione 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 Per lui Non c'è stata Una singola volta Che sia stato rilevante Delusione Secondo me Non vedrà gioco Non in questo standard Se vede gioco In questo standard Non è fondamentale Nel senso che Tivar è più forte Allo stesso costo di mana E tendenzialmente Non vuoi mai fare lui Secondo me Lui È un pezzo morto Fino a che non arriverà La nowhere elf Dove lo puoi fare Di secondo E quindi di terzo Potrebbe Attaccare E fare le sue cose Forti Questa non ha Fatto un gran Che in early access L'abbiamo anche Giochicchiata Però non ho mai Cioè quando potevo Castarla Ho castato altro E quindi Vi dico di no Questa Secondo me Non vede troppo gioco Perché è vero Il suo effetto È forte Il fatto che tu puoi Girare a due le carte A faccia in giù È carino Ma lui è un 3-3 E non si autoprotegge Come Tivar E non ha una win con Come Tivar Perché comunque Questo deve arrivare All'attacco Non lo so Questa mi ha convinto Molto molto poco E vi dico che secondo me Non vedrà a gioco Poi se mi sbaglio Meglio Vabbè Qui devo Spenderci delle parole Convoke la gioca Al 100% L'abbiamo provata È forte Il fatto che tu Possa fare Convoke nel turno Di Oppo È molto rilevante Molto rilevante Salva da removal È aggressiva Forte Quando mena Mena quasi fisso Per 8 O comunque per 6 Ho poco da dire È una carta Forte Quindi se giocate Convoke Mi dispiace per voi Ma queste sono Altre 4 mitiche Anzi In realtà Sarebbero 2 Perché è leggendaria Quindi vi segno 2 Questa è leggendaria Secondo me Non ne giochiamo Più di 2 Convoke Quindi ve ne segno 2 Però sì Cioè se giochiamo Convoke Questa ci va A mani basse Questa è Arabella E entrano in quel mazzo Di Arabella Fuori di testa Tanta roba Non mi aspettavo Diversamente da lei Squilino le trombe Signori spettatori Il bobone assoluto Del nostro Early Access Questo eh Questo è il bobone Assoluto Del nostro EA Questa è una carta Forte Abbiamo giocata In tutti i mazzi Da Forge A Enchantment A Zur Mono White Reanimator No Reanimator Forse no Però insomma L'abbiamo giocata In tantissimi mazzi E sì E sì È forte È 4 mana Due pezzi Con Zur È 4 mana Due pezzi 7-6 Lifelink Ti meno E rifaccio Dei pezzi E poi è un clock Nelle partite Che vanno A lungo termine Se riuscite ad appoggiarla A voi non importa Che vi vrattino I token Lei piano piano Arriva Piano piano Arriva Ed è un problema extra Per Oppo Forte Queste su X Queste sono altre 4 mitiche E ragazzi Ci costerà un botto Questo Questa espansione Ci costa un botto Forte 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 Fortissima Veramente tanto forte Veramente tanto Tanto forte Se ti vrattano Non muore È incantesimo Non esiste più vratta Per Enchantment Tanto Tanto Forte Lei è stata Veramente Rilevante E il signorino Qui Che dicevamo Che non si sarebbe Giocato Invece In Ea Ce l'hanno Giocato Contro Due volte Allora Vi dico la mia Non è fondamentale Cioè Non è forte Come gli altri Impending Ma lo stesso discorso Si può Rianimare Si può Cittare Comunque fa Quattro danni E fa removal Non lo so Lo vedo Meno forte Degli altri Quindi Non ve lo consiglio Attualmente Non lo metto Nel conto Però Si è giocato Parecchio Anche lui Si è giocato Parecchio Si è giocato Parecchio Anche questo Non so neanche io Se mettervelo O non mettervelo Perché si è giocato Tanto Si è giocato Tanto Anche lui E il fatto Che si sia giocato Tanto Anche lui È rilevante Non si è giocato Proprio come Impending Più come Rimozione Cioè come Rianimino Perché tu Lo metti nel cimitero Lo rianimi E poi spari Quattro danni Non è mai brutto Però anche questo Si è giocato Si è giocato Tanto Cioè Si è giocato Questo In un Drop a 3 Rapido Incredibile E Regà Io Io ve lo metto Dai Io ve lo metto Perché L'han giocato Tantissimo E quindi Qualcuno ci crede Si crede In questa carta qua Ve lo metto Ve lo metto Perché non sarebbe giusto Non considerarlo Qualcuno ci ha creduto E non è così male Alla fine I mazzi che rampano Se te lo fanno Te lo fanno Ed è forte Forte tanto Quindi Boh Vediamo Questa carta Penso di averla vista Giocata una volta E non è stata Un gran che No infatti Non l'abbiamo vista Quasi mai No mai Mai Forse solo nell'ultimo UR Non ha fatto niente Quindi no Questa Assolutamente no Assolutamente no Marvin Nessuno l'ha giocato In standard Ma penso che in standard Abbia poche sinergie Però Nel nostro conto Da standard Per ora Non è Non è un gran che Quindi no Cazzo Questo Questo doveva fare Schifo E invece L'abbiamo giocato Ed è forte Porca miseria Anche questo è forte Sapete perché è forte Questo qua? Perché Perché Anche lui Può essere citato Anche lui Può essere citato Bene Però secondo me Questo incostruito Poi a parte Nel mazzo Zur Non ci arriva Quindi questo Però sono due Pesco due Scarto uno Poi lo animi È un 6-3 Lifelink Volare Che ti rifà No sì Va considerato Anche lui È stato È stato Tanto forte Anche lui Nel mazzo Che abbiamo portato Nel conto Ve lo devo contare È stato Tanto forte Anche lui Tanto 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 forte È un vantaggio Carte Sta lì Poi diventa Un menante I 4 4 mitiche Sì Decisamente Sì Hai visto il mazzo Combo Storm Che ieri sera Sono preso tutti Assolutamente no Kona Vabbè Kona Non sto qui a dirvelo Vado semplicemente Ad aggiornare Il costo Delle wildcard Fortissimo Poco da dire O Monored O Kona Show and Tell Sono i mazzi Che in Best of One Far andà padrone Perché Quando c'è Tivar E quando c'è lui È quasi praticamente Show and Tell Tanta roba Tantissima roba Kona Non lo so Se ci hanno pensato Come poteva essere Rotto con Survive Perché su me Survive Allora l'hanno pensato Vabbè Devono attaccare Eh no Eh no Ci sono tanti modi Per tapparlo Ci sono le mount I saddle Ci sono i veicoli C'è Tivar Con Vogue Ce n'è di roba Per fare Kona Me l'hanno giocato Contro due volte Due volte Ci ho perso Bella bomba Bella bomba vera Bella bomba vera Mirror Room Mai vista Mai vista E meglio Mockingbird Secondo me Vabbè Vabbè Allora Questa chi ha visto L'early access Sa quanto l'abbiamo giocata Trenomerci ragazzi Trenomerci Incredibile Cioè questo è un trenomerci Questo qui Ti vince quasi da solo la partita Certe volte E queste sono altre quattro mitiche Perché chi gioca bianco Forgia o così Non ha motivo di non giocarla È stata tanto forte In early access Questa eh Questa qua ci ha fatto vincere Due partite Praticamente da sola Ma eh Ho poco da dire Questa è una bomba Bomba Questa è una bomba Bomba Tanto Tanto forte Che tra l'altro esistono Delle situazioni in cui tu Fai un 1-1 di merda Fai questa L'1-1 diventa 2-2 Mena fa un token Poi non fai più niente Perché magari sei contro contro L'aspetti solo che Oppo ti vratta Tu meni Va Tu meni Va Se Oppo non ha la vratta La sta cercando Sta facendo dell'altro Sta cercando una combo eh Poi ad un certo punto Arrivi a 6 mana La usi e vinci da solo Cioè questa potenzialmente Gioca letteralmente da sola Ragazzi Se avete una creatura È tanto forte Tanto forte Con Forgia triggera da sola È tanto forte Tanto forte È stata forte forte in Early Access Vabbè Io le ho definite Le terre più forti Su Magic Arena Dalle Shockland E io vi confermo Che sono le terre più forti Che io abbia mai visto Dalle Shockland Sbroccate Limitate a 5 combinazioni Di colori Per ora Ma tanto sbroccate Ragazzi Tanto sbroccate Tanto forti Qui segno Direttamente un più 20 Perché se volete giocare Standard E anche gli altri formati Adesso dovete averle Queste Queste sono veramente Forti Tanto Cioè Non c'è stata Una singola volta Che non si siano fixate Persino quando ne avevo Due in mano Avevo comunque Il doppio colore Perché erano Di due Di due cose diverse Mai state Mai state una merda Queste Mai Fortissime Forti Ti permettono Di fixarti Benissimo No ci sono solo Per i colori nemici Tutte forti Tutte forti Ragazzi Cioè Queste sono Secondo me Sono le Le seconde O le terze Migliori terre Di arena Perché Panino Grazie mille per il follo Le prime sono le Shockland Le seconde sono le Fastland Le terze sono queste E queste se la giocano Con le Fastland Perché con i triomi Sono fantastiche Queste Mai vista una roba del genere Fortissime Fortissime Ti basta una basica E hai una dual Che ti entra Dual Hai una dual Che ti entra dual Che non è tipica Cioè forte 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 Sono state incredibili Bombe Bombe vere Allora Me l'hanno giocata contro Questa Però vi dico Non è che abbia fatto Un granchè L'ho vista anche poco Per ora Piccola delusione Questa carta qua Però Attenzione Perché trigger A Kona Quindi potrebbe essere Che nel mazzo Kona Anche se secondo me Sarà meglio l'altra Di crew E di veicolo Secondo me Secondo me Questa è un po' meno È un mazzo È un mazzo con Enduring Vitality E lo Storm Splitter Di Blomburro Fa mano infinito di quarto E vince stanotte Un paio di stai Ah bello Mandatemi la lista Sul Discord Che si fa Non la segno Questa Nell'errare da craftare Perché non ha fatto Win Condition Me l'hanno giocata contro Una volta sola Però anche questa È una carta bella È forte Lui non l'abbiamo Mai provato Perché non abbiamo Mai avuto lo spazio Per inserirlo Da qualche parte Delusione Nico lo credevo Più forte Più usato Non l'abbiamo mai visto Perché Secondo me Il Il mazzo Enchantment Ha troppa roba Più forte di Nico Che sono il drop a 1 E il drop a 2 Peccato Peccato Purtroppo in early access Non si è visto Zan 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 È qui raga È qui È qui piango È il momento Vabbè Allora Non la prebanneranno mai Non la prebanneranno mai Perché Non possono prebannare Una carta nuova È la carta più forte Del set Basta Non ci sono Cazzi Non c'è scusa Per il best of one standard È la carta più forte Del set A mani basse A mani basse Ragazzi Più 4 Subito sulle rare È fuori scala È fuori Scala Fuori scala Chiude di turno 2 Con una facilità Tremenda E se non chiude di turno 2 Basta una cazzo di carta Per fare un doppio effetto È fortissima È fortissima Fortissima È fortissima Non è difficile Averla in mano Di prima mano Non è difficile Accompagnarla con un topo Non è difficile Accompagnarla con un cazzo Di Monastery Swisspear Che diventa enorme E poi c'è Fling Sì Più 20 Più 4 È giusto È fuori di testa Fuori Fuori di testa Ragazzi Questa carta qua È È stata Tanto Forte In Early Access È stata Tantissimo Forte In Early Access Io non ho mai visto Una cosa del genere Per Monored Con questa Ci hanno fatto Ancestral Ci hanno fatto Ancestral Ragazzi Ci hanno pescato Tre carte Con un mana rosso Tre carte Con un mana rosso E hanno buffato La creatura Pescando Quelle tre carte Cioè capite Il rosso Non può avere Un mana ancestral Con questa ce l'ha Ha fatto Un mana Ancestral Recall Con questa carta qua Se Wizard Sente questa frase Non penso che Non possa prendere Cioè Mi hanno fatto Potete recuperarlo Nei VOD Un mana Ancestral Recall Una delle carte Se non forse La carta Più forte Di Magic Un mana Pesco tre Un mana Pesco tre Ragazzi Fortissima Io Per il best of one È pericolosissima Questa la giochiamo In standard In explorer In storica In tutto In tutto La giochiamo in tutto Ragazzi In tutti i formati Dove c'è forza brutta Un più tre Più zero Si gioca Ma poi l'hanno Accompagnata Con un più tre Più zero Che zio pera Quando la creatura muore Ti dà un due due Ti aggiusti la pescata Solo che se la copi Ne fa due Ne fa due Cioè tu scambi Una creatura gigante Che è riuscita anche A fare danno Con due 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 È una roba Fuori di testa Ragazzi Secondo me Non ci hanno proprio Pensato a Wizard Non ci hanno pensato Fortissima È stata devastante In early access L'abbiamo anche giocata Quando abbiamo chiuso T2 È stato incredibile Ma al di là Del chiudo T2 O non chiudo T2 Non è importante Solo quello È importante La consistenza Del mazzo Cazzarola Pensavo che Quattro Leiland Lo bloccassero Invece no No Perché le carte nuove Quelle che danno Più tre più zero E ti danno un pezzo indietro Le aiutano tantissimo Poi sì È ovvio Che se il mazzo Si incastra Alla monored Si incastra anche lei Perché poi inizia a pescare E non ti servono Masticazzi Cioè Dare la possibilità A monored Di essere così tanto Esplosivo in standard È Pericolosissimo Ed è stata pericolosissima In early access Ieri C'è stato un momento In cui tutti gli streamer Stavano giocando questa E raga Cioè È rilevante Questa cosa qua Quando abbiamo vinto Contro D2 È perché Oppo ha pescato Solo creature Se avesse pescato Un singolo combat trick Eravamo morti Malissimo Il problema è questo Ti fa dire che Gli altri mazzi Devono sempre avere Almeno due removal E non è detto Che quelle due removal Bastino Boh A me è sembrata Estremamente rotta Estremamente rotta Veramente tanto Demonic Demonic Cioè L'ennesimo Finto Tutore Demoniaco Da standard Uguale In early access Zero gioco Io non ve la consiglio Perché Non si è vista Non si è proprio vista Non si è proprio vista Quindi No Non si è proprio vista Questo me l'hanno giocato contro Nel mazzo Kaito Mai fatto qualcosa Due mana passo In questo formato No Due mana passo In questo formato No Questa si Vabbè Segniamo più 4 Perché questa è È stata tanta roba Anche questa L'avratta da aggro Contro aggro O l'avratta da control Contro situazioni Bella 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 tanto Eh ho poco da dire ragazzi Quando tu attacchi E vratti solo oppo Quando lascia attaccare oppo E vratti solo oppo È tanta roba Poco da dire È tanta roba Fortina eh Forte tanto Forte tanto Nei mazzi giusti Fa la differenza Si è confermata Una delle più forti Secondo me Tanta roba L'abbiamo usata È sempre bella Nei mazzi token Tu aspetti un attimo Lasci che oppo Faccio il bobone Attacchi Vrup E i tuoi rimangono E poi Vrup È forte È forte È forte Ma poi In generale no Cioè tu fai forgia Che ti frega Che lui abbia tappato Intanto puliamo Poi succede Però questo è forte 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 In quelle situazioni lì È tanto forte Bella Vabbè Il meme È rimasto meme Questo me l'hanno giocato contro Io non l'ho mai provato Ragazzi Per me è superflua Questa carta qua Per me è tanto superflua C'è roba più forte Di quella roba qua In standard Deve arrivare a turno 3 Non deve essere toccato Boh Deve attaccare Se vogliamo farlo triggerare O deve creware Saddlare Tutta roba lenta Comunque Non so Può essere che questa Veda gioco Ma io Per come ho visto In early access Non ha fatto un gran che Ha fatto di più Drop a 1 di questa Questa per ora Non ve la consiglio Poi se sarà giocata meglio Però per ora no Anche questa Me l'hanno giocata contro Due volte Boh Inutile Possiamo definirla Inutile questa carta Perché è nei mazzi È fuori dai mazzi coneri Per il colore che ha Me l'hanno giocata in delirio Hanno perso male Ne avevano due Addirittura Non hanno fatto praticamente niente È un 2-3 Che ha bisogno Di attaccare a T3 È vero che ti fa Scarto pesco Ma Cioè Il fatto è che In questo standard Regolamentato Dal monored veloce Una carta rossa Non veloce Non è che faccia Un gran che E poi ripeto Delirio In early access Non ha fatto Tantissimo Sono state altre Le meccaniche forti Ma secondo me Questa non vedrà Gioco Non in standard Quanto meno Secondo me C'è roba molto più forte Di questa qui Io non voglio quasi mai fare A meno che Esca uneri Mardu Può essere Oppure che In reanimator La vogliono fissa Perché scarti Può essere Secondo me Reanimator Sarà bianco Nero Non rosso Nero Grazie The Jackal Grazie di cuore Grazie mille Per il tredicesimo Boh Non mi sento Di consigliarvela Attualmente Ci sono altri modi Per fare le sue cose Lui Lui l'abbiamo giocato Allora Non è la carta Più forte del set E non ve lo consiglierei In 4x Però è una minaccia Che Oppo Deve togliere Questa Questa è una minaccia Che Oppo Deve togliervi Se giocate monoblack O via di lì Perché se poi Itta Fa uno facelo di danni E scomba con il demone Quindi È una carta Senza infamia Nelode Secondo me Un più due Però se lo prende Perché col mono nero Si potrebbe giocare Però Quasi solo lì Quasi solo lì Non ha fatto brutto Questa Non è Non ha fatto brutto Secondo me Ci sono delle situazioni In cui è superflua Cioè tu non hai bisogno Di questa Per vincere con monoblack A volte Vinci di Liliana Vinci di Pipistrello Vinci di Gix Di Sheoldred Di Demone Senza questa Ci sono altri modi Però è un onesto Drop a 3 È un onesto Drop a 3 Che ha fatto il suo Ha fatto il suo Quindi Più due Secondo me È giusto Poi Come sospettavo Nashi Mai fatto niente Assolutamente Mai fatto niente Nashi Carta senza Un mazzo Probabilmente Tutti mi dicono Ma no è forte Con Kaito No No Non è forte Con Kaito E boh Delusione 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 vera Poi Poi Enduring Tenacity Enduring L'abbiamo giocata Nha Nha Bruttina Nel senso Non è una carta Debole Di per sé No Non è una carta Che tu dici Ah questa è debole No Non è debole Il problema è che È un 4 mana E il 4 mana È rilevante 4 mana È tanto Rilevante E purtroppo Ha bisogno Di un mazzo Molto specifico Per scombare E non sta Sopra Monored Quel mazzo Lì L'ho giocata Ma non ve la consiglio Non ve la consiglio Perché Mi aspettavo Meglio Invece Non Non troppo Non troppo Raga Io l'ho detto Questa qui Era forte L'abbiamo giocata In mono G aggro Raga Ti fa Tanto mana Extra Questa Questa ti fa Tanto mana Extra È lentina Anche lei Però ti fa Un botto Di mana Ragazzi Se te la rompo Non rimane Comunque lì Se hai un drop a 1 Drop a 2 Il turno 3 Il turno 4 Fai 6 mana Eh Non è male Soprattutto con Tivar Nel formato Io non so se vedrà Gioco Però Questa è una carta Di magic Io un più 4 Gli lo do Perché secondo me Per come Ha girato Mono G Con lei Ci sta Secondo me ci sta Secondo me ci sta E poi Con coma Se non fai coma Comunque ti dà il mano a lei Per fare un bobone Per me sì Per me assolutamente sì Mi sembra tanto Tanto Ah e poi ci hanno fatto la combo Esatto Per me assolutamente un sì È stata bella Poi Questa non esiste Ragazzi Questa enduring È la brutta della cucciolata Proprio No 100% no È questo sì Questa carta si merita Un applauso È tanto forte Ragazzi Questa è tanto forte Ed è rilevante Primo perché È a flash E blocca Veramente da dio Secondo perché Poi è un motore Nelle mazze giuste È un motore Bella 4 ragazzi Questa sì Questa tanto tanto Gli incantesimi Si giocheranno In questo standard Se non si mangia tutto Monored Gli incantesimi Si giocheranno E lei fa Fa tanto vantaggio carte E poi ti permette Di fare multi opzioni Puoi restare aperto Per lei Se Oppo non fa niente Di rilevante La fai Se non la fai Magari fai un counter Cioè È stata Un bel bobozzo Questo Un bel bobozzo The Tale of Tamillo Inesistente Mai vista Mai giocata Restricted D'office In best of one Era impossibile Valutarla Perché è una carta Tipicamente da side Ed è stata Giocata a zero Marina Vendrell Stessa cosa Enduring Innocence Per me fa schifo Per me è una carta Inutile E già non mi piaceva Prima Per me L'early access Ha confermato Che è una carta Superflua C'è di meglio Direi Banalmente il drop a 3 Che avete visto prima E Come sospettavo Non è che abbia fatto Delle grandi cose L'ho vista il primo giorno Poi è sparita Secondo me È il drop a 3 Più inutile Che potete fare In quei mazzi lì Perché tanto La sua cosa Le fanno le altre E Quindi No Secondo me no Secondo me Questa non vedrà Gioco in standard Anche se ha Lifelink Proprio perché Ci sono delle carte Che fanno meglio di lei E quindi vi dico di no Però Cioè Il power level ce l'ha Il problema è che è 3 mana 2 1 3 mana 2 1 Che ha bisogno Che poi entri un pezzo Vabbè Sinergizza con l'incantesimo Di prima Però stai già Che curva hai già fatto Vuol dire che hai fatto Un drop a 1 Che attacca di terzo Che potenzialmente Ha già fatto un altro 1 1 E che dopo T'ha guardato Letteralmente T'ha guardato E non ha fatto niente A me non piace A me non piace Secondo me ci sono carte Che pescano molto meglio di lei Molto molto meglio di lei Quindi vi dico Che attualmente Io ve la sconsiglio Quindi non la metto Nel craft A me non è piaciuta Per niente lei Questa sì L'abbiamo vista Nell'ultima forse partita Dell'early access La giocava Il control Izet Problema Izet Non ha la terra forte Quindi Ve la segno Perché questa è una carta forte Che sicuramente vedrà gioco Perché faremo uval Perché è modale Tutto quello che volete Però Izet potrebbe essere Un passo sotto Proprio perché gli mancano le terre Però questo è un più 4 easy Cioè questo Sì Questa è una carta forte Tanto forte Tanto tanto forte Poi Completamente inutile Non è il suo formato Neanche a morire Lenta Superflua Non è nella strategia Aggressiva giusta Outloves Nessuno l'ha cagato In questo early access Se devo prendere Quello che ho visto in EA Fa cagare Quella carta qua Se devo prendere Quello che ho visto in EA Poi Decide in best of three Contro enchantment Che pesca mille Sì Ma secondo me Non fa un granché Cioè Si becca una removal E pace Cioè se devo pensare A cosa ho visto In questo EA Questo è il minimo Meno 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 proprio Cioè tenete conto Che due mana rossi In questo EA Voleva dire Ho vinto la partita Quindi boh Probabilmente è tipica Carta da side In quei matchup Lì dove si pesca tanto Quindi veramente Vai contro enchantment Però non so Quanto resiste In enchantment Anche perché c'è Sheltered by ghost Che Ha fatto di quelle cose In questo early access Incredibile Quindi ve la sconsiglio Questa è forte Però in EA Non l'abbiamo mai vista Nessuno ha giocato Demoni È stata troppo Rilevante L'altra Room a tre mana È un no Questa è improponibile Questa è stata Letteralmente improponibile Nessuno l'ha giocata E nessuno la giocherà mai Questa me l'hanno giocata Contro due volte Cazzo In mono G È forte Io non ci avevo dato Una lira Questa carta qua E invece in mono G L'hanno giocata Perché con Kona E con l'elfo Fai un botto di mana Quindi fai due pezzi Di potenze E poi ci sono creature Grosse Le giri È interessante Vi metto un più quattro Perché questa l'hanno giocata Cazzarola se l'hanno giocata Poi non so Se vedrà gioco Per davvero Perché secondo me Mono G Può essere aggressivo Anche in altri modi Però porca trottola Se l'hanno giocata Non pensavo Scemo io qui Bravi Questo è un più quattro Sicuro Non so Se poi È uno di quei più quattro Che vi dico Aspettate a fare Perché bisogna vedere Però sì È stata buona È stata buona È stata buona Beh Vabbè Questo Questo è il gattino Dei miei sogni Penso che se avrò mai un gatto Lo chiamerò come questa carta qua Perché è stata incredibile È stata incredibile ragazzi Fortissima Più quattro Ma proprio il più quattro Più facile che do stasera Questa carta qua Una bomba Ma di quelle bombe Proprio Pesanti eh Questa bomba Proprio pesante Questa In due per Sì forse in due per Non quattro Due per qui Sì mettiamo il due per Questa è un due per Non è un quattro per però Questa in due per ragazzi Fa quello che vuoi Cos'ho segnato Non ha preso il comando Fa letteralmente Quello che vuoi Quella carta qua Perché In enchantment Pesca Blocca Torna Rifai eri due volte Ha fatto tutto quel micio qua Letteralmente tutto Sì sì Assolutamente sì Evikes Letteralmente tutto Poi quel flash lì È determinantissimo Bella 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 Ci ha fatto fare un botto Di vantaggi carte Bella Valgavot lair Più quattro Subito Fortissima Fortissima Triggerare eri A zero mana Con una terra Che poi ti dà il colore Che vuoi Punto Fortissima Ragazzi Ragazzi Fortissima È stata fortissima Nel mazzo zur Cioè questa È letteralmente Un trigger gratis Per certe creature E non ho altro da aggiungere Vostro onore Fixa il mana E trigger a eri Punto Forte Ma forte Forte È stata tanto forte Tanto tanto forte Eccola qui Eccola qui la mount Che non vedevo l'ora Di valutare Pezzo vero Sì È un più quattro Perché sì Perché comunque fa una buona removal Manifestare dreadback Non è come Non è Scusate Non è come Ridare il pezzo È un gran sì È un gran sì È un gran sì Si crueva bene Vola Mena Poi non la vuoi mai usare Per menare La vuoi per survivalare Però è tanta roba È tanta tanta roba Come back wrong Non l'abbiamo mai vista Non l'ha giocata nessuno Wales of rage Uguale Layline of mutation Zero Questa l'abbiamo vista Giocata Secondo me è un sano più quattro Perché anche questa Nei mazzi giusti Trigger aeri E Il secondo effetto Non c'è Il secondo effetto Non esiste Però Sì È una buona rimozione È una buona rimozione Anche perché va a sgonfiare I topi Se non hanno fatto Troppo Vantaggio subito E quindi Vi dico che è un buon Più quattro E trigger aeri Soprattutto Quindi Iri Scusate Iri Quindi sì Questa è stata molto forte Molto molto forte Questo è un più quattro Easy più quattro Ragazzi Subito Easy più quattro O easy più due Ma io metto più quattro È forte tanto Questa è forte Forte tanto Il mono g aggro Non hai motivo di non giocarla Visto il mana free Che puoi fare E Il fatto che sia da sola Cavern of souls Vi basta quello Vi basta quello Vi basta assolutamente Quello È stata veramente una bomba Veramente Veramente una bomba È stata veramente una bella carta di magic Questa È bella forte Aggressiva Il delirio È una cosa in più Puoi farla In curva Dopo aver fatto La enduring E poi con tivar È di base un più 5 più 5 Quindi sì Poi aggredisce subito Sì sì Tanta roba Tanta tanta roba Poi Ghost vacuum Carta Carta prettamente da best of 3 E poi non so se in best of 3 Vedrà gioco Perché Comunque c'è l'eyline nera Quindi Nei mazzi a base nera Secondo me preferisci sempre l'eyline È una rara forte Sì dai Mettiamo un più Secondo me Non so se qui In standard Forse sì Perché l'eyline contro gli artefatti È un pochino dimenticato D'addio Però è una buonissima Carta da side In early access Non ha fatto niente Ripeto Perché non si poteva giocare Best of 3 Però è una bella carta Anche questa Il plus dell'effetto È carino Contro certi match up Sì Questo è un più 4 Abbastanza Abbastanza tranquillo Secondo me Abbastanza tranquillo Cioè non si è mai tranquillo A spendere 4 carattera Ma Sì Poi La regina La regina Delle early access Ragazzi Carta Che ha il power level Alle stelle Fortissima Fortissima Subito Più 4 uncommon Subito perché È vergognosamente forte Questa Vergognosamente forte Puoi vincere da solo Con questa Abbiamo fatto una partita In cui Lei in doppia copia Ha vinto da sola E regà Fortissima Removal Che triggera Iri Che potenzia pezzo Gli dà lifeling Che lo protegge A 2 mana Basta Non ho altro Non ho altro da dire Vostro onore Fortissima Fortissima Forse vede gioco Anche negli altri formati Fortissima Fortissima E dir poco Tanto forte Tanto tanto forte Lei line of transformation Mai vista Quindi Non vi dirò Di prenderla Perché non l'abbiamo Letteralmente mai vista Lei line of the void Sì ma Dovreste già averla Se non ce l'avete Sono altre 4 rare Se giocate Best of 3 Allora Io ho provato Questo ghostly dancer In un mazzo Non è stato fondamentale Però è forte È una carta forte Però sono 5 mana Quindi non ve la consiglio Io l'ho provato Una carta forte Però non ve la metto Come craft sicuro Beh questa sì Queste sono altre 4 Che partono Anche questa non si è vista In early access Perché ovviamente È una carta da best of 3 Ma sarei scemo A dirvi di non craftarne 4 Quindi Craftatela Perché è tanto Versatile Tanto forte Tanto tanto forte Poi Batter school No Bruttissima Doomsnake No vabbè lui no Sì Questa sì Questa sì Questa sì Vi servirà parecchio Secondo me Secondo me questa Vi servirà parecchio Nel futuro standard Più 4 uncommon Subito Questa secondo me Vi servirà Parecchio E sarà tanto giocata Perché poter togliere Incantesimo Al prezzo di 2 vite e 3 mana È molto rilevante In questo standard Banalmente Se avete pulito board Vi toglie gli impending Che poi vi potrebbero uccidere Quindi sì Secondo me sì Toglie i cartaker Toglie tanta roba Toglie tanta tanta roba Tanto tanto forte Questa carta Questa me l'hanno giocata contro Si giocherà In aura Quindi anche qui Vi devo dire 4 Uncommon Sicuramente Questa Non l'avevo tanto considerata Ma sì 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 è forte È forte Nei mazzi aura Sarà molto forte Exercise No Mai vista giocato Mai visto giocato Undead sprinter Ragazzi Cazzo ma questa carta Doveva essere forte Tanto Non l'abbiamo mai 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 Giocata E mai 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 vista giocata Che delusione Che delusione Grande Lusione Mai vista giocata contro Ma poi non è Non è rilevante Perché è un Trample 2-2 Normale E boh Eh però Non l'hanno mai usata Per batterci E non avrebbe fatto Un granché Cioè sono più forti Altre carte In quel mazzo lì Questa Ragazzi Io per me Non è un Safecraft Per me Per me non è un Safecraft Ci sono carte più forti Nella sua curva Non lo so Io Per come abbiamo visto Early Access No Assolutamente No No Questa sì No Scusate no Ho visto una carta sbagliata Questa assolutamente no Questa Assolutamente no Ce l'hanno giocata contro Ed è stata Completamente inutile Purtroppo Non è Valkyria Se poi uscirà Un live game Vero È da tenere in considerazione Ma No Lei ce l'hanno giocata contro Lei è forte Tra uno che non può essere bloccata Survival E ti va a prendere una carta E te la mette nel cimitero Tanta roba Tanta roba per un uncommon Questa sì Questa anche i reanimator La giocheranno sicuramente Soprattutto se è quella Versione budget Che giocava Jack Torrance Tanta tanta roba Lunar Tanta roba Rip La risposta è rip Twitch in dolce L'hanno giocata contro Mai stata un problema Non penso che sarà un must Di questo standard Sinceramente Egoist No Sì Subito ragazzi Questa carta è forte tanto Si è confermata Molto molto forte In early access Vi prego È veramente Tanto forte Tanto tanto forte Questa carta qua Non vi dico che è una delle migliori Removal del set Perché ci sono delle removal Molto forti Però se non avessimo avuto lei Ne ha Sarebbe stato un disastro A volte eh ragazzi Ci ha salvato il culo Tante volte Tante volte Carta rilevantissima Secondo me Carta veramente tanto rilevante Questa eh È stata fortissima In certe situazioni Quando abbiamo rimosso Quando abbiamo rimosso Occhio Eh Slickshot Poi avevamo rimosso Cos'è Un impending Forse Abbiamo rimosso Un botto di roba Con questa Ci ha salvato Tante volte Forte tanto eh Secondo me Arriva anche in historic Questa Sono abbastanza convinto Che arriverà anche in historic Perché contro maghi È forte E credo sia Abbastanza forte Anche contro Mono G Devotion Che tu se togli elfo E gli dai un 2-2 Non te ne frega niente E Però lì ecco Però tipo lì Contro elfo Fragment Reality È un po' più forte Quello è vero Secondo me Vede gioco in Multiformato Questa È stata tanto forte Tanto Il drawback ce l'ha eh Il drawback ce l'ha A volte il drawback Ti uccide Nel senso che Se sei ai Tanto avanti Nella partita E sei a due punti vita Gli dai il 2-2 Che ti ammazza Ok Ma non c'è mai successa Questa cosa Quando la sparavamo Vincevamo quasi sempre Se non eravamo Se non Oppo aveva troppe creature E noi gli stavamo dietro Però Quando l'abbiamo sparata Ci ha salvato il culo Tante volte E poi restare open Ah contro il Gina Anche l'abbiamo giocata Quando Quando stai open Di un mana Ragazzi È stata bella forte Contro il Monored Ci ha salvato il culo Dagli Slickshot Perché se Slickshot Ti attacca per 20 Con questa E gli dai un 2-2 Non te ne frega un cazzo È stata Tanto forte Tanto forte Tanto tanto forte Bella Clown in giocato Attacchi in giocato Emergi in giocato Raso in giocato Come l'abbiamo chiamata Stamattina Questa Che non me lo ricordo più Gli abbiamo dato Un soprannome bellissimo Aiutatemi Come l'abbiamo chiamata Questa Vabbè Fortissima Vabbè Gli abbiamo dato Madlaine forse Fortissimissima Ragazzi Bella Carta Questa ha fatto 7 danni Attaccando Attaccando Ed era Fortissima Fortissima Stava in Boros Convok A mani basse Bella Tanto Quando vi spara Un botto di danni In faccia all'oppo Vi ridà le vite Siete contentissimi Lei ha fatto la differenza In una partita di stamattina Ce l'hanno giocata contro Ci abbiamo perso Per lei Poco da dire Forte Forte Pochissimo da dire Forte Forte Arabella Arabella Tanta roba Elevator Niente Mai visto Il flytrap Paranormal analyst Mai visto Peccato Malevolent Mai visto Marina Mai visto Violent Urge Mai visto Questa ce l'hanno giocata contro Ma non è stata minimamente rilevante Fear of the dark Niente Killer mask Niente Toby Carta De merda Via Wickercloth No Insidious fungos Ve la metto Come costo Perché questa va in best of three Secondo me Quindi questa ve la segno Secondo me questa va in best of three No Assolutamente no 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 Questa ce l'hanno giocata No Non è questa È simile No 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 Questa Ce l'hanno giocata contro Ma non mi sembra che abbia fatto un gran che No No Assolutamente no Assolutamente no No Sì Questa Questa è forte Questa vi segno più quattro Perché Questa uncommon Il fatto che stunni è tanta roba Poi mena A flash Vigilance Quindi è tanta roba Come come carta Se mai kaito diventerà un mazzo di standard Magari in best of three Dovete averla per forza Non potete far finta che non esista È una bella carta di magic Una gran bella carta di magic È stata forte anche in questione E ha Questa assolutamente sì Questa triggera due volte Eri da sola ragazzi Non vi serve di più Cioè Il fatto che triggeri Da sola Da sola Due volte Eri È rilevantissima Come cosa Però è comune Non è uncommon Devo segnare che è la prima comune Questa sì ragazzi Questa sì Questa è tanto tanto forte No Sbagliato Questa è tanto tanto forte Tanto forte E poi ti dà effetto plus Quindi Buona tanto Buona buona Eh from budget to competitive Ci dovremmo lavorare Sì perché c'è tantissima roba Sherry c'è tantissima roba Monstrous no Orphans no Grasp no Fear no Keybreaker no Sì Sì lei Forte È vera Lei Lei è young pyromancer Più forte di young pyromancer A volte Lady Diana È young pyromancer Più forte di young pyromancer Sì Ma Scusate ma davvero L'incantesimo di prima Era comune Ho visto male io No Comune Comune Lei Lei è una bomba Lei è una bomba 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 Questa di secondo Se poi inizi a farla triggerare Non fermi più Bella tanto No non puoi plottarle con Jace Bella tanto Promossa in pieno Non sto qui neanche a dirvi Che sono altre più 4 Perché sono Cioè questa Power level alto In un set pieno di incantesimi Con una terra Che la fa triggerare gratis Il power level è tanto alto Tanto tanto alto Bella 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 Gremlin No Gym No Assoluto Il bookworm No Troppo Secondo me Manifest dreaded col verde È troppo lenta Come meccanica Quindi no 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 Sì Allora Questa ce l'hanno giocata contro Solo una volta E ha perso male Chi la giocava Però Per me è una carta Che di base Non possiamo escludere Da questo Da questo craft Perché secondo me Artefatto 3-2-nante Ci sta Secondo me ci sta Di base avere Trampol E poi Delirio La fa diventare più grossa Secondo me ci sta troppo bene Io ve la segno Come un bel più 4 Perché Perché sì Perché gli è sta Perché gli è sta Secondo me È comunque una carta Molto forte Molto molto forte Poi Cursed orribile Dagger maunia Friendly ghost No Get out Sapete non l'abbiamo mai vista Get out Peccato È una carta buona Get out E non l'abbiamo mai mai vista Non l'hanno mai giocata E noi non l'abbiamo mai messa Probabilmente perché è da best of three È stupido non darvi un più 4 su quest'uncommon Il power level ce l'ha Power level ce l'ha Però non l'abbiamo mai vista giocata Let's play a game No Le eye on heart glimmer No Mamma mia Questo qui fa schifo No Murder No Peer past No Spectra snatcher No Assolutamente no Sì Questa sì Questa sì Questa l'han giocata parecchio Un po' di power level ce l'ha Ve lo dico Non è così forte come pensavamo Anzi Perché Quando triggera Spesso e volentieri Non ha il target nel cesso Quindi Per il tipo di carta che ha Non ci arriva quasi mai a fare il più 3 più 3 Vedremo se si confermerà poi carta dello standard Se giocata È inutile dirvi che non va craftata Quindi più 4 Probabilmente È più forte in altri formati Attualmente Però vabbè Contro reanimator è un tool Abbastanza importante Anche in standard Assolutamente 100% Sì Questa carta è Forte Ed è comune Questa l'hanno L'ho giocata In reanimator No Scusate In Dov'è che l'ho giocata questa In monored aggro Mi sembra No In boros Forgia No 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 In boros Convoke E E anche in sacrifice Si gioca Tanta roba Anche in convoca è forte ragazzi Anche in convoca Perché vi va a sostituire L'uno Uno Che quando attacca Da più uno più uno Un altro pezzo Poi si si gioca in pauper Questa sicuramente Tanta roba Si può giocare anche in standard Tanta tanta roba Per una comune Volo un attimo in bagno Arrivo Per un attimo in bagno dicevamo comune degli dei è questa qua comune degli dei no no si gioca in pauper è forte è forte death and survivor no enter the enigma mai vista giocata fear of being hunted no norin no pyroclasma si si pyroclasma ce l'hanno giocato contro e finchè esiste con Vogue pyroclasma si ma poi anche contro monored non è male quindi si assolutamente si 4 non comuni in più sicure proprio sicure forti assolutamente si molto molto forte pyroclasma school's cup non pervenuto ma non mi stupisce peccato smoky no anche se ce l'hanno giocata contro tunnel tunnel ce l'hanno giocata l'ultimo control ce l'ha giocata contro sì l'ultimo control ce l'ha giocata contro non mi fa impazzire come room non mi fa troppo impazzire come room però è comune io vi dico di sì perché comunque le sue cose le ha fatte in quella partita là non è così male è lì è comune secondo me con questa potreste anche craftarla poi sì punto valgavot è fortissimo questo ragazzi reanimino gratis a turno 4 solo se avete 4 mana è tanta roba quindi assolutamente 100% sì questa se volete giocare reanimator in best of one è il sì per eccellenza fortissima veramente tanto forte vorino no no questa l'hanno giocata questa l'hanno giocata quindi sì questa tra l'altro è stata abbastanza forte anche quindi mettiamo subito un altro più 4 alle uncommon è stata abbastanza forte questa è praticamente vantaggio carte quasi gratis questo quindi sì assolutamente sì poi 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 terramorphic no 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 anche se pensavamo di sì no 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 sì 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 al 100% forse droppa uno più forte di standard attualmente dopo il topo e il cacofoni questa è stata tanto forte ragazzi a conferma di quello che dicevamo questa è tanto tanto forte ma è in early access ha brillato eh questa ha brillato veramente tanto aggressiva forte sinergizzante nel set questa è una carta vera questa è una carta proprio vera più 4 uncommon subito questa è proprio una carta vera forte tanto ma lo vedrete anche meglio nei video cioè questa è proprio forte la goth sì forte forte anche lei per essere una comune vi dico di sì se giocate reanimator chip questa sì fastidiosa a dismisura bella carta di magic comune sì più 4 capra più 4 subito si autopotenzia da sola d'altronde non ha bisogno di troppa roba e sinergizza con reanimator lui no no mamma mia quanto è forte questa carta mamma mia quanto è stata forte questa carta qua e ragazzi se giocate rakdos reanimator sacrifice la dovete giocare punto cioè fortissima fortissima sinergizza con forge sinergizza con un botto di robe bomba assurda bomba assurda veramente tanto assurda per standard promossissima in pieno non ci ho mai vinto contro tanto 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 forte e secondo me rilevante in quell'archetipo lì ma proprio tanto rilevante veramente forte spara una quantità di danni assurda assurda unable to scream anche questa ci hanno giocato contro dopo lasciate stare che io gli ho risposto con doppia sheltered by ghost ma se non avessi avuto quella in mano non la toglievo più quella roba qua fastidiosa mica da ridere quella carta qua questa è un più 4 sulle common se giocate budget è una bella carta di magic poi no no mai viste giocate le terre comuni peccato però vedremo secondo me è un po' presto per loro no 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 sì sì 100% sì questa ragazzi questa 100% sì carta forte carta forte non comune rimbalzo a uno e poi pesco se faccio un danno con una o più creature sì e mazzi incantesimo a base blu è forte come carta questa non si può dire il contrario assolutamente sì altre 4 uncommon che vanno ad aggiungersi poi siamo addirittura d'arrivo eh questa mai vista questa mai vista questa nemmeno ma c'è te no no sì forte tanto welcome back e terra l'armor welcome back per fortuna ti abbiamo già su arena perché vabbè è un uncommon però in aura questa si giocherà ragazzi tanto tanto forte tanto tanto forte se volete provare a montare aura in standard quindi sì promossa in pieno per chi non ce le ha sono altre 4 uncommon da andare ad investire poi poi fear no fear no fear no final vengeance sì 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 una comune forte questa questa ce l'hanno giocata contro è fastidiosissima che la giochi in sacrifice esili un pezzo oppo e triggeri tu le tue robe sì assolutamente sì assolutamente sì bella tanto anche questa common questa in sacrifice si viene giocata al 100% anche se è strega tanta roba tanta roba questa carta strength no teddy no glimmer bust no growing dread no escort no sì questo sì questo sì inquisitive glimmer sì altra carta che ci hanno giocato io non l'ho mai giocata io me l'hanno giocata contro più volte è forte nei mazzi giusti è è tanta roba tanta tanta roba quindi altre più 4 sicuro questa si gioca sicuramente piragna no rootwise no granchio no storica storyteller no slowing no slavering scusate infection no vanish no vile no amalgama no betrayers no questa ce l'hanno giocata contro ma è un grandissimo no questa è un grandissimo sì anche questa ci merita un bel applauso eh questa è stata tanto forte in early access assolutamente sì forte 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 tanto forte e auto riciclante se stessa poi fortissima veramente tanto forte guardate quante uncommon dobbiamo metterci dentro veramente tanto forte sì veramente tanto forte no non l'hanno mai giocata perché delirio non è stato un grand che però è forte quella carta lì questa ce l'hanno giocata contro vabbè questa comune non è fondamentale secondo me questi no vabbè sì questa sì sì questa questa ragazzi quando abbiamo reanimato Atrax a tempo instant è stata una goduria dai più 4 ancom questa per reanimator è fondamentale eh male che vada è removal ragazzi cioè va bene va bene dici che alchemy si potrà montare un buon jund boh bisogna aspettare altre prossime 30 carte nonno prima di passare ad alchemy finché non vedo alchemy da askmor non posso giudicarlo comunque l'hiver dai tanta roba tanta roba questi no no avanti no 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 qui niente anche questa non l'abbiamo vista ma il problema di questa è la velocità che aveva l'early access di ieri secondo me questa ci può entrare e vi dico che per me qui è un più 4 semplice nelle comuni glimmer light glimmer light no glimmer seeker no hans no ratto no keys no si 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 abbiamo giocata in boros convoca e tanta roba eh bella questa questa si questa si se giocate convoca almeno 2 si ma anche 4 se volete giocare una versione un po' più budget di convoca anche 4 si assolutamente si è stata forte beh golgari reanimator però evaix altri golgari non ne abbiamo trovati questa me l'hanno giocata contro ma non mi è piaciuta neanche un po' perchè il fatto che non blocchi uuuh piggy bank azzi pigna stavo giocando parlando di un'altra carta mi è arrivato piggy bank ragazzi questa carta è fortissima in sacrifice è una è un treno non te ne liberi mai di sto porco non te ne liberi mai di questo porco qua porco il porco proprio questo è forte tanto è stata forte molto forte in sacrifice molto forte in sacrifice porco il porco porcaccio porcaccione proprio forte tesoro 3-2 tesoro tanta roba trapped non l'abbiamo mai visto questa roba non l'abbiamo mai vista grab the prize non l'abbiamo mai visto e vabbè e cosa vi dico di no su quella carta qua reanimino a4 in standard è un sì grosso anche è stato un sì grosso è stato un sì grosso poi steino surgical suite sì l'hanno giocata anche questa sempre con l'occhio sì forte grazie fan total grazie di cuore per il quattordicesimo mese grazie mille grazie 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 questa la giocano con l'occhio quindi sì anche questa è forte porca miseria che lo rianimi a 2 quindi più 4 anche qua trappola no school no so no fortissima carta di magic budget rompi standard questa è la definizione di questa carta qua fortissima carta di magic budget rompi standard turn inside out è una bomba ma una bomba ragazzi che quando la duplichi gratis e fai due pezzi se ti muore un pezzo incredibile bomba 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 forse anche per il pauper tra l'altro bomba 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 vera lab crypt no fanatic no horrid no stalked no fear of lost heat peccato secondo me è forte ma no rampaging no tunnel no lui no layer stampano no no ma mi sa che ci siamo eh beh lei assolutamente no hanno giocato questa ma non me l'hanno giocata in una maniera che vi dico è un sì probabilmente è un no 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 lui ce l'hanno giocato contro ma non ha mai fatto niente no e basta queste sono le versioni fighe ci siamo no finito sì finito ragazzi beh che dire che dire che dire non ci resta da fare altro che sommare le wildcard che ci costano che ci costano da questo set vi metto la grafica così facciamo una somma direi che possiamo fare la somma sono tante sono tantissime 12 16 20 22 26 30 38 38 mitiche 38 mitiche minimo 38 mitiche 38 mitiche sono tante 38 mitiche 24 24 28 32 34 36 40 44 48 50 58 66 rare mamma mia ma 66 sono tantissime 66 rare e uncommon andiamo a truccare cifre astronomiche ma tanto sono uncommon per fortuna 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 uncommon 112 uncommon e le comuni zitte zitte 4 8 12 16 32 comuni 32 comuni dai consoliamoci ci sono poche le comuni madonna mia 32 comuni e basta il resto è tutto carissimo ragazzi duskmourne ci costa un botto grazie maggot ragazzi ci costa un botto a lavorare davvero sherry tanto giocheranno tutti i monored ma non è comunque una risposta che può giustificare un numero di espansioni così alto e così tanto value in una singola espansione da standard ci sono tantissime ragazzi ci sono tantissime c'è 38 mitiche 66 rare sono veramente tante mamma mia eh sì mac davvero eri fortissimo in euro ti viene a costare sui 400 euro più o meno no allora vediamo cioè in realtà se hai proprio zero wildcard e vai a comprare semplicemente le wildcard che dicono loro senza comprare le buste che non ha senso allora ti conviene ma in realtà ti conviene sempre comprare le buste non puoi comprare le wildcard quindi non ha senso contarle su queste non ce l'ha devi comprarti le gemme le gemme allora 107 euro per 20.000 20.000 compri 100 buste è pochissimo mamma è pochissimo mamma è pochissimo almeno penso almeno 300 euro almeno contando che ti possono uscire dai pacchetti ma non è detto che lo fai tutto con 300 euro quella spesa qua 300 euro sono tanti ragazzi almeno 300 euro sì Rolando però 38 mitiche non le fai 38 mitiche non le fai forse le 66 rare con 300 euro sì ma 38 mitiche non le fai no 38 mitiche non le fai anche perché sono una una wildcard mitica ogni 30 pacchetti con 300 euro ne apri ne apri ne apri tre no con 300 euro ne apri ne apri meno di 300 no non ce la fai non ce la fai non ce la fai eh sì fai meno di 300 boost è vero Yook non ce la fai mamma mia con 300 euro non ti fai l'espansione tutta l'espansione standard su arena minchia eh gabris ma vale la pena prenderli non lo so eh ah sì più o meno sì alexandro più o meno sì il draft è fondamentale mamma mia ma che costo che ha questa espansione ragazzi ma è altissimo quel costo qua un po' esagerato questo costo beh dipende Crio dipende non tutti economizzano con il draft eh dipende non è sempre così anche perché qui ci so c'è un ciclo di 20 rare di terre e se nel draft non le prendi non le prendi eh non lo so non so quanto economizzi magari ma metti anche che economizzi di 100 euro può essere e gli altri 200 quale sarà il miglior mazzo per farmare se rimane le e-line mono red eh sì alessandro il quick draft non convengono mai però secondo me non ce la fai a farlo è tutto ci sono delle bombe troppo bombe non lo so sono un pochino deluso da questa cifra sinceramente perché è un set standard esatto Isaac esatto non so quanto valga la pena ragazzi peccato sono sono cifre alte eh sì sì l'ho vista l'ho vista Jack forte boh no lo so che non è obbligatorio prendere i 4x di tutto Pino però allora per me lo è partiamo dal presupposto che io faccio i conti per me e per me lo è perché io devo portarvi i contenuti più ampi possibili e devo prendere tutto quindi per me se non avessi la migliaia di risorse che ho per fare il creator ad oggi devo spendere 400 euro punto ok quindi parto da lì ed è punto pensiamo anche a chi non ha niente che vuole giocare standard cioè una cifra tanto alta comunque cioè se non vuoi giocare mono rosso ragazzi ti serve un botto di risorse adesso ma ammettiamo anche che le mitiche non abbia senso contarle così perché non fa il creator però intanto vuoi giocare in reanimator 8 mitiche per le impending e già quelle vanno 8 mitiche ragazzi sono soldi adesso sono soldi vuoi giocare vuoi giocare standard vuoi le dual ventirare cioè ventirare ragazzi guardate che costano tanto ventirare adesso sì sì ma ci sta Pino ci sta però per un giocatore normale quello che voglio che passi con questa analisi è che è un pochino esagerato il 38 di mitiche è esagerato è tanto esagerato e il 66 rare pure perché vuol dire davvero che per un botto di tempo i budget player giocano solo mano rosso sì è vero le terre sono sempre state tanto costose ma le mitiche no adesso si sono aggiunte anche le mitiche per standard ragazzi sono cifre sono cifre grosse sono cifre grosse sono cifre grosse esatto Gabrix esatto 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 troppe espansioni in pochissimo tempo sono molto ah ecco esatto raga tra un mese un mese esce foundation tra un mese esce foundation un mese foundation ha 300 carte ragazzi sì foundation è standard è un mese un mese come cazzo fai a starci addietro eh esatto mech esatto boh 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 60k gold sono 60 boost e ve gente vabbè sono 6 draft dai sono 6 draft vediamo il lato positivo e le mitiche stanno diventando un bel problema sì foundation non sarà solo una nuova espansione sarà una base per i prossimi 5 anni dello standard quindi è fondamentale è foundation è fondamentale averla siamo nei guai cash baby cash sì dai 6 7 8 draft no solo foundation durerà 5 anni lo standard dura 2 raga che vi devo dire che vi devo dire cioè io potrei dirvi bellissimo questo early access no 2 luke 2 2 anni adesso lo standard 2 il 3 era l'anno scorso 2 allora vi posso dire beh il paso dipende dipende da che ristampe sono tipo come si chiama day of judgment è una ristampa ma chi non aveva preso quella vecchia di anni non ce l'ha boh la stessa cosa la omniscience e chissà tutte le altre carte se sono da base chissà quanto impaterà comunque vi posso dire sì e poi resta esatto resta il problema io vi posso dire bellissimo l'early access wizard grazie che me l'hai fatto provare bellissimo tutto stupendo bello giocare contro gli altri creator però raga ma bisogna che si regolino anche arena adesso non ci stiamo dietro non ci stiamo dietro ma non ci sto dietro io che faccio il creator ragazzi non ci sto dietro io che faccio il creator cioè per voi io mi immagino che fatica sia adesso boh ok è il loro modo per dire ok è il momento di far sganciare i giocatori e può darsi perché quanto mai adesso spendere sembra quasi fondamentale oppure boh oppure boh sì le ricompense vanno aumentate sicuramente però l'avrebbero già fatto l'avrebbero già fatto ragazzi non lo so è historic per quanto sia brutto adesso yuk effettivamente non ruota e quello sarà sempre un vantaggio dell'historic esatto i set non li pensano per arena e quello è un altro problema ci sta ci sta ha senso prendere il bundle di boost e dusk ma orna sì sì perché a questo punto se puoi spendere 50 euro sì cazzo guarda quanta roba c'è sì 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 io non consiglio mai quel bundle lì mai non lo consiglio mai però figa però figa cosa c'è nel bundle da parte i cosmetici questo ve lo faccio vedere tra l'altro devo comprarli ancora io ve lo faccio vedere nel bundle c'è questo ci sono dentro 50 booste di dusk more più 5 gold 2 kaito di base e basta e quindi se sono così tante le risorse di questo set necessarie ci può stare come bundle il migliore è sempre questo è sempre il secondo il migliore è sempre il secondo il problema è mastery più questo più questo è un centello è un centello però sto giro sembra convenire boh non lo so che poi potrebbe sfumare tutto il discorso dicendo eh ma tanto poi monored vince su tutti e tu dici eh cazzo sì eh cazzo sì non lo so ragazzi sono un po' sono un po' intristito da questa cosa sono tanto intristito da questa cosa io eh iniziano ad essere spese molto alte veramente tanto alte stilian parlo per me io sinceramente per quanto riguarda lo standard da quando farmo eventi ho tutte le collezioni complete da kamigawa insomma il 97% alternando ogni tanto qualche seed draft sì 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 ma non c'è mai stata una spesa così da kamigawa però eh mai una spesa te la faccio rivedere una spesa così da kamigawa non c'è mai stata mai e chissà quante altre combinazioni non si sono viste in early access e magari ci costeranno ancora di più ragazzuoli io ci mancherebbe jack mi fa piacere con un'espansione a 300 carte che esce tra un mese madonna ragazzi c'è poco da fa c'è poco da fare le cifre sono queste forse due di meno due di più ma sono queste meno male ci sono tante carte comuni e non comuni giocabili questo è un bene questo è un bene perché comunque teniamo in considerazione che c'è un alto power level anche tra le comuni e non comuni però minchia alcune mitiche ragazzi sono tanto più forti tanto più forte esatto stiglian esatto però chi gioca solo standard sì cioè prima o poi dovrà fare questa cosa vai a fare un qualifier e non hai tutte le carte che ti servono non lo so quel più 20 di rare ce l'hai ce l'hai ce l'hai quel più 20 di rare ce l'hai perché le terre devi averle o giochi solo monorosso solo un mazzo per tutto il tempo e allora sei un altro tipo di giocatore oppure quella spesa lì ce l'hai ma poi secondo me quando si giocano e si gioca in un determinato modo un solo formato secondo me a un certo punto è anche importante provarli gli altri mazzi per capire qual è il tuo mazzo migliore quello che mi trovi meglio quindi prima o poi quelle spese lì le fai perché è standard cioè se non fosse standard e fosse historic vi dico vabbè due mazzi historic ce la fate sempre da averli se sono due mazzi più o meno performanti riuscite a cavarvela no cazzo qui è standard qui è standard non c'è quella Golgari ci sono solo quelle nemiche grande veggente grande veggente grande veggente eh sì quello è un altro discorso effettivamente anche il discorso bug adesso è un po' tanto cioè nel senso adesso hanno tanti anni comunque sapete come vi riassumo questo discorso non ho mai dovuto aprire delle volt dovrò aprire delle volt mai giocato kaito in curva jack mai mai riuscito a giocarlo ma esce il video domani mattina su baina extra ragazzi no no ci sono gabrix devono esserci le prossime amiche nelle prossime spazio per forza non possono fare un ciclo solo nemiche è già successa questa cosa con le fastland di kaladesh di kaladesh sì era già successo però è stata una merda perché poi c'erano le fastland solo lì e quindi troppo avvantaggiato a giocare solo quelle combinazioni di colori lì non credo che lo rifaranno su delle terre forti come queste combo di secondo con monored sì la domanda per noi giocatori è quanto siamo disposti a spendere per questo videogioco ognuno ha il suo budget esatto Luke esatto molto molto vero eh mi sa civo che le apriamo tutte per dusk more ah perché ovviamente ragazzi non è finita mica qua la spesa è scemo io che me lo stavo dimenticando fermi ci stavamo dimenticando un'altra cosa ma cazzo troppa roba wizard è troppa sta roba eh non è mica finita qua 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 eh questa se fanno la follia di metterla in historic è quattro mitiche fisse e comunque chi gioca timeless ce l'avrà quindi sono altre quattro mitiche poi company no hanno lead no questa si ragazzi si se arriva in historic si se arriva in timeless si può anche provare anche questa è forte ragazzi questa in due giocatori rompe tutto eh questa non cambia mai target oppo quando tira ogni spell si può fare anche sei danni cinque danni quattro danni cioè perché non dovremmo giocarla e sono altre quattro mitiche boh sacrifice per chi gioca timeless sicuramente speriamo non in historic ma chi gioca timeless questa la vuole altre altre quattro mitiche fai grief ti aggiungi quattro mana grazie a questa cazzarola fai anello di primo con questa damnation ecco damnation quattro mitiche fisse per l'historic damnation eh questa esce in historic spero che esca in historic ma sono altre quattro mitiche secondo me non se lo può più permettere nessuno di giocare multiformato su arena image no questa si secondo me si e il resto no in teoria però anche queste ragazzi fanno fanno un'economia molto tiranna ormai del gioco non lo so allora chiudo così e poi chiudo anche la live ragazzi secondo me sì sì crio è così ma non può essere una scusa cioè è una piattaforma che deve andare incontro ai giocatori non può allontanarli e basta vabbè la spesa per blomburro è molto inferiore guarda forse posso fartela qua guarda aspetta aspetta forse forse ce la faccio vediamo può essere dammi un attimo forse ce la faccio perché alla fine io di blomburro non ho un granché cioè l'ho draftato ma le carte che si giocano non sono così tante da non riuscire a farlo secondo me allora contiamo solo le rare le mitiche ovviamente 4 8 4 2 queste 4 perché c'è la gente che le gioca avanti questa la giochicchiano ma non è fortissima 1 4 4 4 2 questo si gioca ancora ragazzi ciao delmo ciao caro fate lo shout out al delmone ciao delmo tutta post ragazzi questa si giocava ancora non si gioca più non si gioca più ragazzi è che ci costerà un botto a me l'early access è piaciuto tantissimo duskmoor non fuori di testa però costerà un botto a livello di risorse è tutto fortissimo tutto fortissimo se quella lì non si gioca più andiamo no anche season of loss non si gioca questa si gioca ogni tanto queste 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 questa si gioca poco no si dovrebbe giocare poco questa adesso non si gioca più non si gioca in lizard questa cosa qua si gioca infatti mi sembrava la lince in due per di side in mono red ma aspetta si gioca questa o questa in lizard no quella là è giusto è giusto quella là poi queste questa questa questo si è giochicchiato questa si loro due le contiamo che alla fine non è che si stanno giocando tantissimo se non ricordo male si giocano due zoraline e lunar convocation due di side credo si mi sembra di si sembra sia giusto queste a parte lei nessuno ma questo si questo lei lui si giochicchia però penso se ne giochi non so ne metto quattro ma penso se ne giochino due marble si giochicchia fonte import fable passage la contiamo lo stesso e basta esporto la lista e vediamo no vabbè dipende che lista allora monoblack non è tanto badge dipende che lista giochi di monoblack perché c'è la lista che gioca le vecchie mitiche che non costa pochissimo sei avvantaggiato sulle terre lì delmo si glimmer se giochi la versione con le due comuni e non comuni si è molto carina molto carina eh no ma delmo ce ne sono due che girano di liste l'ho visto anche il tuo monoblack carino molto carino però mi hanno giocato contro anche l'altra versione e sono tanto forti entrambe sono tanto forti entrambe vedremo secondo me in best of 3 quello con Liliana farà eh farà farà e per quanto riguarda eri delmo esistono due liste c'è quella budget che hai detto tu che sono quella comuni e non comuni troppa 1 troppa 2 e e l'enchantment molto carino nuovo si gioca tanto molto forte però ce n'è anche un'altra che gioca azzur e è fortissima delmo che usa tutti gli impending tranne quello rosso usa il blu il bianco e il nero quindi rosso e verde no e sono tutte mitiche rare lì tutte ma poi le terre nuove sono tutte fortissime è stato un early access molto strano molto forte tutto fortissimo tutto veramente forte comunque dicevamo vediamo quante rare e mitiche ci ha costato Blomburro vediamo eh vado su antigigolfish per vedere kaito a me ha fatto schifo delmo kaito a me ha fatto tanto schifo mai fatto in curva gli altri che lo giocavano hanno sempre perso contro di me da me ha fatto letteralmente schifo ma tanto schifo eh tanto tanto è stata una delusione costante kaito no ti giuro puoi andarmi a rivedere i miei i miei vod ha fatto vomitare vomitare ma non sto scherzando ci sono rimasto malissimo eh ma delmo te lo assicuro se no non te lo direi non ha fatto niente niente mai giocato in curva mai perso da kaito anche quando me l'hanno giocato contro l'ho devastato mai non so perché mai comunque comunque 74 rare 23 mitiche costo totale blomburro più o meno 74 rare 23 mitiche contro attualmente se l'early access riporta il vero ebbè non hai detto niente delmo se i conti dell'early access torno grazie di essere passato delmone ci sentiamo grazie mille se l'early access ha detto il vero percentuali ragazzi è una bella differenza c'è una bella differenza c'è una gran bella differenza più rare perché avevano 74 contro 66 ma 38 mitiche contro che cazzo contro 20 contro 23 ma è costa molto di più di blomburro vabbè e con questo paragone ragazzi fuggo anch'io io vi ringrazio questa live verrà ricaricata domani sera non lo so sono troppi video domani sera sul canale principale credo credo vi chiedo scusa se non arriva domani sera un grazie di cuore a tutti vi si vuole bene grazie a tutti Grazie a tutti